ciao a tutti voglio fare gli auguri per il loro matrimonio a due grandissime persone che hanno deciso di donare tutti i regali alla holos di carpi sopra le righe dentro l'autismo io sono con loro aiutiamoli ad aiutare fate come me collegatevi al loro sito www.giorgialuca.it slash donazione ciao grazie mille